Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti in questo quinto video dedicato ai comandi da terminale. In questo video vorrei ritornare brevemente sul comando sed per poi passare a nuovi comandi. Allora, mi trovo sulla cartella test1 su cui sono presenti diversi file. Vi mostro il contenuto del file testo. Il file testo contiene il cane mangia il biscotto, il gatto beve latte, il topo mangia il formaggio, il panda mangia il bambù. Come vedete è presente diverse volte l'articolo il. Adesso vediamo di sostituire con sed l'articolo il. Quindi scriviamo sed, apici, s per sostituire, slash, poi il che vogliamo sostituire. Slash, diciamo che lo sostituiamo con l'articolo la. Slash, apici e il nome del file, ovvero testo. Cosa succederà? Beh, vedrete. La cane mangia il biscotto, la gatto beve il latte, la topo mangia il formaggio. Insomma, avrete notato che è stato sostituito solo il primo il di ogni rigo. Bene, per questo voglio mostrarvi come fare per sostituire ogni occorrenza di il su ogni riga. Dobbiamo semplicemente aggiungere una g dopo l'ultima slash. Quindi, ricapitolando, abbiamo sed, slash, s per sostituire, poi slash, quello che vogliamo sostituire, slash, con il nuovo testo, slash, g. G sta per sostituisci globalmente, sostituisci su ogni riga, ogni occorrenza di il. E come vedrete, adesso abbiamo la cane mangia la biscotto, la gatto beve la latte, la topo mangia la formaggio, la panda mangia la bambù. Bene, siete pronti ad imparare nuovi comandi? Spero di sì. Il primo comando che voglio insegnarvi è il comando per creare dei collegamenti, per creare dei link. Innanzitutto vi faccio vedere che ho un file Luigi, in cui sta scritto, ciao, mi chiamo Luigi. Con il comando ln possiamo creare dei collegamenti. Noi lo utilizzeremo con l'opzione S, quindi ln-s. Scriviamo il nome del file, Luigi. Scriviamo il nome di un nuovo file, il nome del collegamento. Quindi ln-s Luigi, Marco. Abbiamo creato un collegamento simbolico. Visualizziamo il contenuto di Marco. Ciao, mi chiamo Luigi. In realtà Marco è solamente un collegamento, non è un nuovo file. Vi faccio vedere che andando a modificare Marco, il contenuto di Marco, con nano, in realtà andremo a modificare il file originale, ossia Luigi. Quindi nano Marco. Vado a sostituire Luigi con Marco. Salvo e chiudo. Visualizziamo Marco. Ciao, mi chiamo Marco. Visualizziamo Luigi. Ciao, mi chiamo Marco. Quindi abbiamo sostituito anche il file Luigi, perché si tratta in fondo dello stesso file. Adesso accennerò al comando OK. A-W-K. Con questo comando è possibile fare veramente tantissime cose. Comunque vi mostrerò semplicemente come stampare un determinato campo di un output. Innanzitutto vi mostro il contenuto del file nomi. Vedete, abbiamo dei nomi e cognomi. Mario Rossi, Giuseppe Bianchi, Marco Gialli. Adesso diciamo che vogliamo stampare solamente il primo campo, cioè solo i nomi, senza i cognomi. Andiamo con OK, apici, parentesi graffe, print, segno del dollaro, 1. Chiudo parentesi graffe e chiudo apici. Dollaro 1 sta per il primo campo. Quindi cosa succederà? Abbiamo stampato solamente i nomi, il primo campo. Manca la seconda colonna, no? Se vogliamo stampare i cognomi, andremo ovviamente con dollaro 2. E qui abbiamo rossi, bianchi, gialli. Solo il secondo campo. Bene, adesso vi faccio vedere il contenuto del file nomi2. In questo file abbiamo gli stessi nomi e cognomi, però separati da un trattino. Se facciamo con OK la stessa operazione su questo file, quindi dollaro 1, ovviamente otteniamo lo stesso risultato. ho stampato solo il primo campo, la prima colonna. Se vado con dollaro 2, in questo caso avremo il trattino. Se vado con dollaro 3, abbiamo finalmente i cognomi. Allora, adesso impareremo un comando simile che è cat. Operiamo sul file nomi2. Ve lo mostro nuovamente. Nomi2 contiene dei nomi, un trattino e dei cognomi. Con il comando cat, con il comando cat, possiamo stampare un campo delimitato da un carattere. Scriveremo cat-d per indicare il delimitatore. Nel nostro caso il delimitatore è il trattino, il carattere trattino. Quindi cat-d, tra virgolette inseriamo il trattino e poi gli diciamo di stampare il primo campo. Come? Con l'opzione f, field. Quindi stampiamo il primo field, f1. Cosa succede? Abbiamo eliminato i trattini e i cognomi. Ci troviamo soltanto il primo campo. Adesso facciamo la stessa operazione. Il delimitatore rimane ovviamente il trattino, però stampiamo il secondo campo. Cosa succede? Abbiamo appunto il secondo campo, dopo il trattino, cioè i cognomi. Adesso visualizziamo il contenuto del file numeri. Come vedete ho 100 righe, ognuna con un numero da 1 a 100. Sappiamo come visualizzarlo con cat, sappiamo come visualizzarlo con less, ad esempio less numeri, e possiamo scorrere il file. Sappiamo come aprirlo con nano, ovviamente. Adesso vedremo come visualizzare solamente le prime 10 righe del file, con il comando h e a d. E ad numeri, e come vedete abbiamo solamente le prime 10 righe. Possiamo specificare il numero di righe che vogliamo con n, ad esempio, trattino n5, e abbiamo visualizzato solamente le prime 5 righe. Bene, il comando opposto è tile, t-a-i-l. Se scriviamo tile numeri, tail, no, numeri, vediamo le ultime 100 righe del file. Se specifichiamo con l'opzione n un numero di righe, ad esempio 5, vedremo quel determinato numero di righe. Tile-n5 visualizza le ultime 5 righe del file. Può darsi che in futuro ritorneremo sui programmi visti dall'inizio fino ad adesso, ma per ora direi di imparare nuovi comandi. Allora, il prossimo comando che vi propongo è il comando per ordinare dell'output, sort. Ci sono diversi modi per ordinare, puoi ordinare in base a diverse opzioni, comunque noi lo utilizzeremo in modo molto semplice. Visualizziamo dapprima di nuovo il contenuto del file, qual era? Il file testo, e adesso andiamo a ordinare con sort. Quindi andiamo a passare l'output di cat su sort e vedremo che il testo è sempre quello, però la terza riga è adesso il panda mangia il bambù, la quarta riga è adesso il topo mangia il formaggio, perché ovviamente la P viene prima nell'alfabeto rispetto alla T. L'ultimo comando che impareremo in questo video è il comando WC. Allora, visualizziamo di nuovo con cat il contenuto del file testo e indirizziamo l'output sul comando WC per vedere cosa succede. Abbiamo il risultato 4, 20, 104. Allora, il primo numero sta per il numero di righe, sono effettivamente 4, il secondo numero sta per il numero di parole, il terzo numero sta per il numero di byte, o se volete, di caratteri. Se vogliamo specificare solamente il numero di linee, mettiamo l'opzione L, quindi WC-L e il risultato sarà 4, sono 4 le linee. Se vogliamo solo il numero di parole, W, l'opzione è W, quindi WC-W e otteniamo 20, sono 20 le parole. Se vogliamo solo il numero di byte, mettiamo meno C e otteniamo 104. Va bene, direi che per oggi può bastare. Spero che abbiate imparato qualcosa, che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Clarintux.